alexa mi dici che tempo fa a shanghai al momento a shanghai cina ci sono 7 gradi celsius con pioggia per stasera è previsto cielo nuvoloso con una minima di 7 gradi buongiorno a tutti da joe il guerriero delle 20 oggi parliamo di alessa alessa assistente vocale che può aiutare il tuo business posso avere il lavoro di chi ti cerca le cose sul sito insomma ti può aiutare in qualsiasi cosa e poi ti fai sparmare un sacco di tempo e soprattutto può far divertire i clienti nel bar perciò comprati una alessa e la programmi molto bene ci sono un sacco di video tutorial sui siti e poi usala per tante cose tra cui far divertire i clienti al bar è importante che subito lo fai prima degli altri così ti divestiti tutti gli altri e quando vedo i tuoi clienti possono chiedere un sacco di belle informazioni simpatiche informazioni ma anche solo il tempo come hai sentito ad alexa vedrai che attirerà un sacco di clienti e potrai aumentare i tuoi affari buongiorno da joe il guerriero del ambiente ciao e a presto con alexa naturalmente